Stadio di Johannes Hovn, in Svezia. Di fronte le nazionali svedese e inglese. Siamo uno a uno. Gli svedesi, maglia bianca e tre corone sul petto, subiscono l'assedio delle pantere britanniche. Incassano un secondo gol. Il prodigioso svedese Tumba trascina i suoi all'attacco. È l'anima della squadra il migliore in campo. Tocca a lui di segnare la rete del pareggio. Siamo due a due. La lotta si fa sempre più accanita. Le pantere resistono bene. Le asprezze del gioco provocano mischie. Gli svedesi vogliono la vittoria e si battono senza respiro. Dipendono accanitamente la loro porta. È ancora Tumba l'anima della squadra. È lui all'attacco. Stanga, gol. Ha vinto la Svezia.